Sei mai stato sorpreso dall'apparizione in casa tua di un particolare insetto? Hai mai pensato che potesse portare un messaggio o un significato speciale? Se è così, potresti sorprenderti nello scoprire che sono molti quelli che credono che alcuni insetti siano messaggeri spirituali che portano con sé simboli e significati. Oggi esploreremo un argomento affascinante e trascurato, il significato spirituale degli insetti che compaiono nelle nostre case. In questo video esamineremo 10 insetti comuni che potresti trovare nella tua casa e il loro possibile significato spirituale. Iniziamo! 1. La coccinella Cominciamo con uno degli insetti più amati e simbolici. La coccinella è spesso associata alla buona fortuna e alla protezione. La sua presenza potrebbe indicare che sei sulla strada giusta nella tua vita o che devi prestare maggiore attenzione alle tue finanze. Tuttavia, alcune credenze vedono anche la coccinella come un segno di avvertimento per essere cauti nelle relazioni. 2. La farfalla Questo animale speciale è il simbolo universale di trasformazione e rinascita. La comparsa di una farfalla potrebbe indicare che stai attraversando un periodo di cambiamento personale o che è il momento di abbandonare vecchie abitudini per crescere spiritualmente. 3. Il ragno Molti di noi possono rabbrividire alla vista di un ragno, ma nel mondo spirituale il ragno è spesso visto come un messaggero di creatività e resilienza. La sua abilità nel tessere le sue ragnatele è vista come un simbolo di creazione e manifestazione dei nostri sogni e desideri. 4. La formica Le formiche sono conosciute per il loro lavoro di squadra e la loro determinazione. La loro presenza potrebbe essere un promemoria per essere più organizzati e disciplinati nella vita quotidiana. Inoltre, le formiche sono spesso associate alla prosperità finanziaria e alla pazienza nel raggiungere i propri obiettivi. 5. L'amantide religiosa L'amantide religiosa è spesso vista come un simbolo di pazienza, riflessione e equilibrio. La sua postura meditativa è considerata un segno di calma interiore e saggezza. La comparsa di un'amantide religiosa potrebbe essere un invito a rallentare e ad ascoltare la propria voce interiore. 6. La zanzara Anche se spesso considerata fastidiosa, la zanzara può portare con sé un messaggio spirituale. La sua presenza potrebbe essere un segno che è tempo di eliminare le energie negative e di concentrarsi su pratiche di autocura e protezione energetica. 7. La libellula La libellula è un simbolo di leggerezza, gioia e trasformazione. La sua presenza potrebbe essere un promemoria per abbracciare la bellezza del momento presente e lasciare andare il passato. Inoltre, la libellula è spesso associata alla guida spirituale e all'illuminazione. 8. Lo scarabeo Lo scarabeo è stato venerato in molte culture antiche come simbolo di rinascita e rigenerazione. La sua presenza potrebbe indicare che stai vivendo un periodo di profonda trasformazione interiore o che è il momento di liberarti da vecchi schemi di pensiero. 9. La cavalletta La cavalletta è spesso vista come un simbolo di prosperità e abbondanza. La sua presenza potrebbe essere un segno che è il momento di coltivare la tua spiritualità e di aprirti a nuove opportunità nella tua vita. 10. Il grillo Simbolo di fortuna e buon auspicio in molte culture, la presenza del grillo potrebbe simboleggiare l'arrivo di buone notizie o di una svolta positiva nella tua situazione attuale. In conclusione, gli insetti che compaiono nella nostra vita quotidiana possono portare con sé significati profondi e messaggi spirituali. Prestare attenzione a queste creature piccole ma significative potrebbe portare chiarezza e ispirazione nella nostra vita. Ti incoraggiamo quindi a rimanere aperto e consapevole della presenza degli insetti nella tua casa e a riflettere sulle lezioni che potrebbero portare con sé. E tu? Quali di questi insetti hai visto recentemente apparire in casa tua? Faccelo sapere nei commenti. Speriamo che questo video ti sia piaciuto e ricorda di iscriverti al canale Dose Mentale per ulteriori contenuti dedicati alla spiritualità. Ci vediamo nel prossimo video.